Per RKO dall'altra parte del telefono c'è White here. Ciao Davide, come stai? Ciao, ciao, tutto bene. Voi come state? Abbastanza bene e tra l'altro a noi piace tanto la tua musica, la stiamo suonando tanto in radio e quando addirittura ho ascoltato un pezzo, mi è ricordato Beck addirittura, nelle composizioni, sai, nell'articolazione dei suoni. Però raccontando un po' la tua storia... Hai detto, scusa, ho sentito male, hai detto Beck? No, no, Beck, Beck. Ah, Beck! Infatti mi sembra, Beck è un compositore di musica contemporanea, però mi sarebbe piaciuto anche quello. Beck, Beck, aspetta, un bel complimento, grazie. Allora, raccontami per la tua storia, tu ovviamente pugliese, che ti sei trasferito a Bologna un po' di tempo fa, ma come hai iniziato a muovere i primi passi e cominciare a sperimentare, perché hai sperimentato molto? Allora, vabbè, io ho cominciato a suonare il pianoforte quando avevo sei anni. La sperimentazione, diciamo che è sempre stata un pallino, perché mio padre è un batterista e da quando ero piccolo mi ha instillato questo pallino della musica sperimentale, perché comunque, in qualche modo, lui ha sempre ascoltato musica non convenzionale. E allora, da quando ero piccolo, muovevo i primi passi sugli strumenti che avevo in casa, e per la musica elettronica, specialmente, usavo il computer, una MIGA 500 dell'epoca, con cui cominciavo a fare della musica elettronica, e successivamente, quando un amico mi ha regalato un Korg MS-10, un sintetizzatore analogico, mi sono innamorato della musica elettronica e non l'ho più lasciata. La cosa interessante è che all'interno delle tue composizioni c'è tanta roba, nel senso che ci sono tanti campionamenti, addirittura da rassentare la big beat, la break beat degli anni 90, ci sono aperture moderne, c'è l'hip hop, insomma, c'è un po', insomma, di tante cose diverse, anche magari distanti tra loro. Come nasce il lavoro che fai sui prani? Come fai a ricercare i pezzi che poi vai a recuperare, tagliare, cucire e quant'altro? Allora, guarda, no sì, infatti, io ho cercato di fare un lavoro il più omogeneo possibile, però ovviamente ascoltando tanta tanta musica diversa, inevitabilmente si finisce per fare un lavoro variegato, soprattutto perché comunque ero da solo e dovevo decidere in qualche modo da solo, anche se devo dire che con i ragazzi dell'etichetta Last Pro Studio ci siamo sempre confrontati sui brani e c'è stata una concertazione anche per decidere quali brani e mi hanno dato anche dei consigli ogni tanto. Aspetta, qual'era la domanda? Sì, ci sono molti generi e come nasce un brano? Siccome i brani nascono proprio da brevi incipit, che siano di testo o di musica, dopodiché io vado avanti a un mattone dopo l'altro, per esempio c'è l'incipit di un brano musicale, mi fa venire in mente delle parole, poi quelle parole continuano, sviluppo il testo e mi fa venire qualcosa in mente per sviluppare il brano, eccetera, e diciamo che questo essere così eterogeneo è proprio perché ho comunque scritto i brani in vari periodi, il primo singolo è uscito ormai un anno e qualcosa fa e comunque è il frutto di un lavoro di un paio d'anni a livello compositivo. Per arrivare poi alla composizione del brano finito, immagino che alle spalle ci siano stati molti ascolti, sia per i testi che per la musica, soprattutto per la musica, ma per la scelta dei cut, insomma c'è un bel lavoro alla base dei pezzi. Intanto mi fa piacere che venga fuori questo, sì, come dire, non mi pongo limiti, quindi, insomma, però c'è anche questo fatto qui che va contro, cerco di mantenere sempre la prima idea, perché il vizio, secondo me vizio, da quando esistono i software musicali è quello di non fermarsi mai e modificare sempre, perché ci sembra sempre che sia meglio con la nuova modifica. Mentre anche da considerare il fatto che tu quando hai ascoltato un brano su cui stai lavorando su per tante tante volte, qualsiasi modifica che tu faccia può sembrarti migliore perché finalmente non è come prima. Quindi io cerco di fare, tu hai detto, ci sono molti ascolti, in realtà cerco di farne il meno possibile. Proprio per non cadere nella ripetitività dell'ascolto e quindi anche a suefarmi in qualche modo, perché sono sempre uno streno difensore della prima idea. Quando tu fai un brano all'inizio e ti sta piacendo, ti dà qualcosa, quel qualcosa, quel sentimento, devi pensare che non ti odorà più nello stesso modo. E quindi bisogna ricordarsi cos'è la sensazione. E allora sì, i brani comunque sono curati, ma comunque ogni brano mantiene la sua idea principale. Chiudo, perché comunque hai toccato uno dei miei tasselli fondamentali, questa cosa della prima idea, per esempio, ma anche il fatto di essere il più minimali possibili a livello di strumenti, perché un altro vizio, secondo me, è quello di mettere tanta, 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 tanta roba. Tanti strumenti, tanti effetti, eccetera. Volendo portare poi questi brani dal vivo con le mie macchine analogiche, cerco di essere il più minimale possibile, di lasciare il necessario, proprio perché quando vado dal vivo devo riuscire a farlo con due, tre macchine. Certo, ho capito. Com'è stata invece l'incursione, diciamo così, in quella che possiamo definire la tua esperienza teatrale e anche cinematografica? Com'è stata la mia incursione, intendi? Sì, l'approccio, come ti sei trovato? Ah, oh beh, era un mio capriccio da quando ero piccolissimo, quello di fare musica per immagini, insomma, per teatro o cinema. Pensa che mi mettevo, tipo, a 12-13 anni, con la tastiera davanti al televisore, allora col tubo catodico, il televisore cubo, con il muto. Quindi senza sentire, esatto, facevo le mie colonne sonore. Quindi poi quando mi sono trasferito a Bologna, ho cominciato a lavorare dopo un paio d'anni con una compagna di danza, poi con un'altra compagnia di teatro e pian piano è diventata una professione da che era un capriccio. E devo dire che è un lavoro sicuramente stimolante, ma anche molto, molto difficile, perché quando hai a che fare con registi o con coreografi che hanno una certa idea della musica, ma non te la sanno spiegare, bisogna imparare a tradurre le consegne. Noi ci ricordiamo ovviamente che il tuo disco si chiama Right Here, hai fatto tutto da solo oppure hai avuto dei collaboratori? Ho avuto dei collaboratori, a livello musicale ho fatto tutto da solo, tranne per il brano Last Call, che è l'ultimo brano che chiude il disco, è fatto proprio a quattro mani, anzi direi ce lo siamo palleggiato con Vings Corsa, che è un grandissimo secondo me, non solo secondo me, compositore, musicista, sperimentale. Insomma mi sono innamorato del suo stile e anche del suo modulare, del suo sintetizzatore modulare che si è costruito da solo e continua a costruirsi. E quindi gli ho chiesto inizialmente mi metti una traccia su questo brano, per favore, dopodiché ce l'abbiamo lavorato insieme. Per il testo, a livello musicale, ho fatto tutto da solo. Per quanto riguarda i testi, li scrivo insieme a un mio amico americano, perché insomma i testi sono in inglese e non voglio fare errori né di pronuncia né di grammatica, e quindi mi ricordo a lui, ma devo dire che comunque molto spesso il suo apporto è anche poetico e non solo tecnico. E in più ci sono i vari featuring che hanno cantato nel disco, per esempio Giorgia Faraone in Draw the Dream, che è una cantante leccese, femmina in arte. Poi c'è Vincenzo Destradis, sempre pugliese, cantante di Westfalia. E c'è un ragazzo che si chiama Sol Iscovich, un altro cantante in Dica la Penna, Mike Clarelli, che è la cantante del mio progetto 220, e una violinista tedesca che ha partecipato anche a un incisione di uno dei brani. Forse mi sto dimenticando qualcuno. Però stavo pensando in conclusione, insomma, porterai dal vivo il disco e se ti capiterà di tornare in Patria a presentarlo? In Puglia, assolutamente, certo. Sì, 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 anche perché l'etichetta per cui esce, le etichette sono due, Last Floor Studio e CNI Compagnia 9 Indie. L'etichetta Last Floor Studio è pugliese, e devo dire anche che senza di loro non sarebbe proprio nato il disco, perché sono stati loro un giorno a dirmi Davide, ma tu fai musica elettronica da solo, no? Perché prima era solo un progetto live, White Tear. Hai mai pensato di fare un disco? No, facciamolo. E quindi, insomma, i brani, alcuni brani c'erano già, altri li ho composti ad hoc, e quindi sì, ogni volta che torno a Brindisi c'è una data, almeno una data da fare. Perfetto. Brindisi comunque sì, o dintorni, insomma. Lo scopriremo anche, vabbè, dalle tue pagine social, insomma, penso che ci sia un po' tutte, no? Sì, certo. Davide, io ti ringrazio, quindi spero di vederti presto. Grazie a voi, grazie mille a voi, in bocca al lupo per tutto. Grazie.